Lascia il cervello Probabilmente Lascia perdere Non dirgliele queste cattiverie Tu ignora le cattiverie Non rispondere alle cattiverie Mi piacerebbe avere un consiglio da te Non è molto felice Se mi dici che cosa posso consigli Io ci provo Non è che sono un guru dei consigli Se volete posso aprire un canale Oppure scrivere un libro di self help Vedi presente quei libri Dove ti dice come migliorare la tua vita Come diventare ricco Quello non so se sono bravissimo Cioè non che io sia ricco Però i soldi che ho fatto Probabilmente li ho fatti per fortuna Perché io dico sempre Che avere un canale di successo Per buona parte è stato un colpo di fortuna Sarà stata anche la bravura Boh suppongo però C'è stata anche la fortuna di aprirlo Al momento giusto Comunque in ogni caso Potrei scrivere un bel manuale di autoaiuto Cosa ne pensi del super green pass Ma io penso che stanno un po' A usci di testa Con tutte ste cagate Io penso che avrebbero dovuto Gestire le cose diversamente Grazie a tutti